Rieccoci! Dopo un parentesi particolarmente scocciante, ma siamo tornati giusto in tempo per raccontare quello che sta accadendo sul palcoscenico della politica beneventana a tre mesi e mezzo, quattro mesi scarsi dall'appuntamento alle urne. Torna a doppio taglio, torna con i protagonisti di questa congeria politica che inevitabilmente appassiona. E non poteva essere altri che l'ospite che abbiamo stasera nei nostri studi. È Angelo Moretti, che noi ringraziamo di essere qui. Buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Non poteva essere altri che Angelo Moretti perché intorno a lui è ruotata tutta quanta la parabola ultima delle scelte politiche all'interno di quello che è l'alleanza per Benevento che è nata lunedì sera. nata però senza Civico 22. Insomma, quello che si era in qualche modo capito, intuito, si è poi materializzato proprio lunedì sera. Qui non si doveva parlare del candidato sindaco, ma in realtà questa opzione si è infilata lo stesso. Sì, è evidente che il candidato sindaco in una coalizione delle amministrative è fondamentale. Nel senso che è certamente un nome che deve fare sintesi di un programma. Il programma è certamente un lavoro fatto insieme, ma da marzo si ventilano una serie di ipotesi e noi chiedevamo che si facesse un tavolo per parlare dei criteri, dei modelli di selezione. Noi abbiamo parlato delle primarie o dell'unanimità. Ma è evidente che per noi che veniamo dal mondo civico andare in un consenso politico in cui di fatto ci sono tante sigle di partiti o di ex partiti o comunque di sigle di gruppi consigliari, che sono insieme e che giustamente fanno il loro percorso, ma che fanno un percorso che viene pure prima di queste elezioni amministrative. E che già hanno condiviso un nome e un criterio. Se il civismo, invitato dal tavolo, porta il suo numerino e dice io questa è la mia ipotesi, e quella ipotesi chiaramente sarà una su 13, una su 14. È evidente che a quel punto il tavolo aperto al civismo non è aperto al civismo, è un tavolo politico in cui c'è anche il civismo che fa... Ma va detta una cosa, che il civico 22 non è stata un'esperienza che si può soltanto ascrivere al mondo del civismo. È stata anche un'esperienza che a lungo andare ha preso dei connotati politici. Ci vedete che è un'esperienza politica. E quindi in effetti voi non siete più, siete partiti come esperienza civica, ma poi siete arrivati ad essere un vero e proprio cartello politico. Al netto di chi ha deciso di abbandonare questa esperienza, magari anche in modo sofferto, perché poi insomma tutti quanti voi vi siete uniti nella speranza di poter dare un contributo forte e vincente per la palingenesi della città, che poi quello è il risultato a cui tendete tutti. Cioè dare alla città un'occasione in più. Il programma di questa coalizione di alternativa è un programma scritto in buona parte dagli attivisti di Civico 22. Quindi di fatto quel programma già è una novità. Noi abbiamo un'idea diversa di come si deve uscire fuori da una stagnazione, di una rigenerazione in politica, di quelli che sono dei nomi che di fatto noi vediamo da 30-40 anni, da 25 anni. C'è una volontà precisa che l'assemblea di Civico 22 il 24 gennaio aveva dato come mandato alla segretaria politica di Civico 22. Cioè andare in una costituente coalizione ma sapendo che il candidato sindaco doveva essere spesso di una novità e che il nome del candidato sindaco di Civico 22, che è il mio nome, si poteva tranquillamente fare da parte. Se si trovava una intesa su un nuovo volto, un volto che poi va... Chi ti vuole male porta avanti la tesi secondo la quale tu ti vuoi candidare per forza. Cioè vuol dire io mi voglio imporre perché in pratica sono stato io a volerla questa avventura, perché poi bisogna... è necessario che io venga escluso? No. Ora io la sto banalizzando ovviamente. Un minimo minimo, come dire, di esigenza anche personale esiste in fin dei conti. Cioè di mettersi alla prova come fattore di novità. Sì, quello che tu chiami esigenza per me è soltanto un metterci in una condizione di chiarezza. Cioè uno non può dire in politica io ci sto ma non ci sto. Allora, il tema è... noi siamo incontrati a settembre 2019, per la prima volta, per creare un gruppo che andava chiaramente verso le elezioni amministrative del maggio 2021, che quello era il termine naturale di questa amministrazione uscente. E non abbiamo mai nascosto l'idea che oltre a fare un laboratorio civico che parlasse di come rigenere la città, poi si andasse verso la conclusione di uno o più liste per le prossime amministrative. Questo è scritto nel nostro manifesto, è stato sempre chiaro a tutti. Ma hai detto, no ma noi ci guardiamo, però poi dopo non saremo impegnati. Abbiamo sempre stato impegnati. E la strada da seguire l'avevate già bella che predisposta. A gennaio, 5-22, ha fatto un'operazione che io vorrei vedere in tutti gli altri partiti. Cioè ha detto una cosa molto chiara. Non si sapeva ancora se si votava ad ottobre, a gennaio si sapeva di votare per fine maggio, che era la scadenza naturale. Abbiamo detto, guardate, noi ci siamo, abbiamo un nome, abbiamo una volontà, quindi quella di portare un rinnovamento della classe politica bereventana e siamo pronti a fare fuori il nostro nome dentro di una condizione, diciamo, di dialogo. Quindi io penso, e tutti dobbiamo pensare come cittadini, che se parlo di una classe politica devo sapere esattamente cosa pensa, non cosa dice, che è diverso da quello che cosa pensa. Noi abbiamo fatto un'operazione che io rivendico, perché tutti dicono, ah è sbagliato, perché in politica non si dice mai il nome prima. E si fa sempre il gioco, no, devi nascondere il nome e poi devi farlo uscire all'ultimo momento. Questa è la dinamica, la dinamica tipica dei tavoli politici, che io rispetto, non dico che noi facciamo solo bene. Ma noi siamo altra cosa e lo diciamo, insomma. Non ho bisogno di nascondere. Chiaramente questo significa la città, che non c'è nessuna idea di dove fare il sindaco a forza, ma c'è chiarezza. Noi abbiamo un nome disponibile, dopodiché non diciamo che questo è il nome unico, ma bisogna cercare insieme un altro, se dobbiamo superare questo. Io prego alla regia di preparare l'insert dell'intervista a Pasquale Orlando, perché poi andremo a parlare anche di quello che è accaduto poi all'interno del Civico 22. E arriviamo insomma alla spaccatura con la parte sinistra del vostro partito, perché tu hai detto insieme agli altri partiti, quindi vi considerate un partito in quasi piena regola. Un partito è un parola, un movimento civico. Movimento civico, politico. Sì, politico, ma il civismo è politico. Senti, tu ti hai detto che le primarie sono uno strumento in base al quale negli ultimi tempi è stata scelta la classe dirigente, non a caso è il PD che l'ha proposta in tante occasioni. In questo caso si dice che la pandemia ci impedisce di andare a fare tutta questa procedura, insomma, io ricordo cinque anni fa le primarie interne al PD, prima sì, poi no, poi ni, poi furono in qualche modo concesse, crearono solo confusione poi all'interno del PD stesso, o meglio furono sfruttate da chi poi quella confusione organizzò fino a un certo punto. Non sono le primarie del PD, questi sono le primarie della coalizione, che è diverso. Non l'abbiamo mai fatto e quindi è sempre stato interessante vedere invece una primarie di coalizione come aggregano a Benevento anche un'idea di città. È chiaro che questa è una novità, anche questa è una novità del metodo. Noi non abbiamo previsto i primarie a gennaio, abbiamo chiesto adesso ad aprile, perché c'è un impasse, c'è un impasse evidente, perché il nome vero del candidato sindaco non è ancora uscito ufficialmente, nessuno se lo ha in testa, nessuno dice che questo è un nome che io ho... Abbiamo visto il segreto di Pulcinella, perché già l'abbiamo capito chi è. Esatto, però questo segreto di Pulcinella secondo me non funziona in termini di competizione contro un altro nome che si chiama Mastella e che da, forse da cinque anni, però certamente da marzo 2020 ha cominciato una campagna elettorale fortissima, anche utilizzando il suo ruolo, soprattutto utilizzando il suo ruolo. Quindi chiaramente non è proprio ideale pensare di dover nascondere i nomi. Penso sia il caso invece di tirar fuori i nomi e di andare alle primarie, perché con le primarie una città possa unirsi su una visione e siccome non c'è mai stato un movimento civico come il nostro, così come le condizioni che oggi si stanno verificando, in un centro-sinistra comunque è in difficoltà, perché in fondo Mastella era centrodestra, l'abbiamo già vissuto tante volte con Mastella. Mastella è Mastella. Sì, ma Mastella... Poi si accasa qui, si accasa lì, ma in realtà resta Mastella. Su questo è lineare. Su questo è lineare nella sua viandanza. Quindi lui ha chiarito lui stesso che cosa è. Lui non è una persona che ha un'appartenenza, lui ha una viandanza. E la viandanza è il suo metodo di appartenere alla politica. Questo l'ha chiarito lui, quindi per fortuna non dobbiamo neanche più trovare altre modalità. L'ha deciso lui, l'ha definito lui chi è. Questa dinamica di viandanza però è evidente che nel centro-sinistra Benaventano ha creato un po' di sconguassi, perché ci hanno trovato un Mastella che a gennaio 2020 era... Su questo ci torniamo proprio a proposito di Perifano, perché oggi ho scritto una cosuccia per il telegiornale, facendo anche un riferimento etico, politico, su Perifano, insomma, che è un po' il convitato di Pietro di ogni nostro discorso. Prima di affrontare il tema, vorrei sapere se la regia è in grado di mandare in onda l'inserto di Pasquale Orlando. Se è capa, se è nel grado. Se è in grado, in ritardo di un mese dalle scene, eccolo qua, quello rubicondo. Prego, sentiamo Pasquale Orlando. Orlando, non mi risponda in termini democristiani. Ma è difficile fare. Che lo so. Era un po' di Civico 22. Lei è andato via, lei, voi, tu. Si è andato via in epoche non sospette, insieme a Ettore Rossi, un anno fa. Come giudichi quello che è successo ultimamente nell'ambito di questa associazione, movimento, partito, lista, come lo possiamo chiamare, alla luce di quello che in effetti è stata la tua esperienza all'interno di Civico 22? Io credo che la politica è una cosa complicata che va fatta con pazienza, con scienza e coscienza e poi l'entusiasmo, la voglia e soprattutto, come diceva Nenni, i puri hanno questa voglia di arrivare che li mette un po' senza riparo rispetto alla complessità. Io credo che ci siano tanti errori e tante cose buone. Non vorrei che si buttasse l'acqua sporca e il bambino, io guardo con stima le storie delle persone. La politica però è riflessione, capire gli obiettivi e anche avere pazienza. Quello che dicevo l'anno fa, direi, ancora oggi, con calma, quell'esperienza che ha avuto tanto di interesse e importanza, poteva essere la guida per il cambiamento. Diciamo, poi, nel politicismo vince la politica normale ed è quello che è stato l'errore. Bisogna recuperare il buono, distinguere il cattivo dal buono, la luce dall'ombra. Credo alludessi a te. Puri, puri nenniani, insomma. L'essere impulsivi, insomma, buttare il cuore al di là dell'ostacolo, non guardando anche a un certo pragmatismo. Lui ragiona e parla in termini da prima repubblica o da anzian regime. La questione è più semplice. Allora, noi siamo dentro la complessità. Se no, il civismo non avrebbe ragione di esistere. Ci sono i partiti. Quando la solidarietà meccanica funzionava, i partiti funzionavano. La segreteria del partito era la gavetta del politicismo. Non aveva senso il civismo in epoche in cui la segreteria di partito era la scuola. In cui la scuola di formazione politica la facevano i partiti. Oggi noi siamo stati la novità di aver fatto una nostra scuola di formazione politica dentro il civismo, che è una sorta di grandissima novità in ottica di panorama politico. Quindi è evidente che non siamo più nell'epoca delle grandi strutture e siamo in un'epoca delle strutture liquide. Le strutture liquide hanno bisogno, però, anche di dare messaggi chiari a chi le segue. Perché il fatto che noi siamo in strutture che si possono costituire in nostro tentativo è stato quello che è tuttora e è molto esistente di dialogare tra anime diverse. Oggi in civico, nei 110 che oggi siamo, rispetto ai 150 che eravamo fino a fine aprile, ci sono tante anime diverse in questa città. Anime di diverse estrazioni ideologiche o anche religiosa. Questa condizione è una condizione che ci chiede sì stare dentro complessità, ma anche dare messaggi chiari e netti. noi non abbiamo avuto dei fuori usciti ed è questo bisogna essere anche con molta serenità, bisogna dircelo, ma persone che hanno deciso di abbandonare Civico nel momento in cui Civico continuava sulla strada. Nel senso che la strada è stata quella di perseguire un metodo, la democrazia deliberativa, di perseguire un obiettivo che era quello di rinnovare. se no non c'era bisogno di nascere, potevamo fare una lista dentro una qualsiasi di queste coalizioni esistenti oggi. Che noi arrivassimo ad un punto del genere tra un centro sinistra, Mastella, un centro destra o una destra, in questo momento era quasi piuttosto evidente. Potevamo tranquillamente costruire una lista e entrare in una coalizione, non c'era bisogno di fare la scuola di Civico 22. Quello che noi abbiamo fatto è che stiamo continuando a fare invece conservare una linea. Dentro la complessità i messaggi devono essere chiari, perché la gente e le persone che seguono Civico 22 devono sapere esattamente cosa pensa e cosa vuole fare. E noi questo stiamo dicendo. Noi non trovate nulla di quello che noi non diciamo che non è rintracciabile online, che non sia frutto di un minuto pubblico. Ma la trasparenza è sempre stata... Allora non è purezza, perché la purezza di cui si parla spesso ha a che vedere con la durezza, come se qualcuno dovesse fare fuori qualcun altro perché vuole andare verso lui. Senti, chi non ti può sopportare, parliamoci fuori dai denti, dice questo signore praticamente si vuole imporre. E dice questo, è una cosa che ho creato io da ex novo. Sentite, non ci rompete le scatole, io devo essere proposto. Ma queste persone non vedono che... Un po' a poco di verità, non è che poi manchi in questa visione. Ma questa è un'altra dinamica, perché non c'è la... C'è anche un fatto personale, poi, in qualche modo, no? Ma 110 persone che votano, noi ci siamo incontrati, il problema è che io vi chiedo un altro, ma voi avete visto movimenti che hanno messo ai voti l'euro leadership in quest'ultimo anno? Avete visto qualcuno che ha messo in discussione la leadership? Noi abbiamo avuto un momento di frizione su 150 persone che siamo tesserati, di anime diverse, estrazioni diverse, gente che non si fa a condizionare o manipolare, tutti con la schiena dritta. Alla fine, chi ha scelto di andarsene, avrà fatto due conti e ha capito, diciamo, di non poter cambiare dentro 52, ha fatto una scelta, diciamo, la sua offerta, certamente, di abbandonare. Chi è rimasto, non è rimasto mica perché ci sta soltanto il nome di Angelo Moretti, ma che ci sta un progetto. E il progetto è condiviso, quindi questa banalizzazione di personalizzare tutto sul mio nome serve a ridurre la portata di Civico 22 e a farlo diventare un'esperienza che è un nominale. Però è fuori dubbio che tu esci, si esce in qualche modo indebolito il numero di Civico 22 perché in 40 sono andati via, ma dei 110 che sono rimasti tu rappresenti a questo punto dei leader incontrastato, voglio dire, di questa unica corrente di cui è oggi permeato Civico 22. La leadership non ha a che vedere con il contrasto, l'incontrastato in questo caso, ha a che vedere con il dialogico. Noi abbiamo un gruppo di lavoro che non consentirebbero a nessuno di noi di essere incontrastato, questo non si riesce a vedere. Quando ci si incontra e si discutono le linee, non c'è nessuno di noi che può essere veramente incontrastato in un gruppo di persone libere. è vero che c'è una sintesi, cioè la persona che fa da leadership è la sintesi di quelle persone, non è il leader incontrastato di un gruppo perché c'è il carisma. Non è il despota del momento. E dei carismi ne abbiamo visto in un distinto dicendo che c'è un grande carisma e poi muore il giorno dopo. Segnangelo, andiamo nel cuore del distillato, c'è un'antica pubblicità della Grappa Piave con l'incompianto Vannucchi. Il comitato di Pietra è perifano. Ora, al di là delle primarie, al di là dei metodi attraverso i quali arrivare ad una designazione democratica di chi dovrà poi inevitabilmente opporsi a Mastella, ci sono problemi anche di altro genere. Il suo stesso sindaco sta imbastendo una campagna elettorale, quella di questi giorni, praticamente tutta incentrata sul discorso massoneria che, insomma, si pronunciava a denti strettissimi fino a qualche settimana fa ma se l'ha avuto il merito di spalancare proprio una porta enorme, di accendere un faro veramente grosso su questa massoneria di cui si sapeva ma si continua a non sapere quasi niente praticamente. Ora, da un certo punto di vista il vostro elettorato che io ho definito cattolico progressista anche nel mondo cattolico ci sono varie anime molto diverse l'una dall'altra e spesso in conflitto l'una con l'altra. La scelta di un candidato che ha ammesso senza nessuna reticenza di appartenere a quella organizzazione per voi rappresenta un fattore di carattere etico ideologico al quale non è possibile accostare la vostra origine la vostra provenienza politica e anche questo punto spirituale. Il problema voglio chiedere con molta chiarezza il problema non è legato alla massoneria la massoneria legale è il grande oriente d'Italia che si trova online si sono tutti nomi online e così via è ben diversa da quella che ha fatto i condizionamenti del potere italiano certamente la massoneria in sé ha ancora bisogno di molto si dice green wash di molto lavaggio verde che possa rifarsi un nome scontano i retaggi della P2 se uno parla di massoneria subito la associa la P2 quello è il massimo che si va come parallelismi c'è un problema quasi di immagine della massoneria quindi è evidente che la massoneria in sé che è nata anche con l'intento di distruggere la chiesa cattolica è a porta di per sé un enorme problema di origine ma dire che Perifono non sia un buon candidato perché sia un massone la vedo veramente il tipico mastellismo se la cerca questi appigli per poter trovare lanciare un po' metodo con me si diceva che era l'imprenditore con lui il massone lui ha bisogno di etichette quindi davvero noi non ci facciamo il retire da queste etichette è evidente che i gruppi che possono fare condizionamento di potere sono gruppi tutti pericolosi ma c'è la massoneria ma c'è anche tante altre associazioni anche a volte anche associazioni religiose che hanno lo stesso problema quindi dire che praticamente il problema è che il massone mi sembra la classica diciamo etichettatura utile a chi fa politica come la fama stella non serverebbe assolutamente a noi 522 infatti le persone che ragionano che riflettono quindi se non c'è un condizionamento di potere dato un'associazione segreta non vedo quale sia il problema non è quello il problema che poi mi si dica la massoneria è una cosa buona se la massoneria non cambia nella sua origine se non il re nega l'origine che deve distruggere la chiesa cattolica come uno dei beni chiaramente dicono anche da dire una cosa è nata e si è sviluppata in paesi riformati parliamo della Gran Bretagna il luogo di origine poi gli Stati Uniti d'America in qualche caso nelle nuove repubbliche sudamericane nate col positivismo per esempio la matrice dell'indipendenza di alcune di tutte le repubbliche sudamericane è legata essenzialmente alla dottrina di Conte per esempio quindi in fin dei conti si sostanzia si sviluppa in luoghi in cui la chiesa cattolica non ha non ha un co è indubbio che in Italia ha avuto un peso nel condizionamento del potere questo è indubbio non possiamo adesso dire che la masoneria in Italia non è stata innocua no ha voluto l'unità nazionale attraverso anche i grandi gruppi finanziari d'Ossigli ha continuato ad essere determinante ma se dobbiamo dire che il problema del candidato per Ifono è un problema del legame della sua masoneria no assolutamente però ti faccio una domanda di riserva adesso tu hai deciso di andare per conto tuo e presenterete probabilmente una lista per conto vostro tu la capeggerai dovessimo arrivare al ballottaggio e non essendo dirimente il discorso legato all'origine dell'eventuale candidato che dovrà poi contrapporsi a Mastella e arrivare al ballottaggio voi che fate? la domanda insomma è banale ed è volgarissima però poi è quello che alla fine conta per fortuna abbiamo 5 mesi davanti di costruzione 5 mesi davanti significa costruire il percorso noi non pensiamo ad una lista noi pensiamo ad un gruppo di liste 522 è nato da 2 anni quindi non sono io do per scontato che al ballottaggio ci va per Ifono e Mastella tanto per dire ok diciamo che io invece per scontato ci deve arrivare 522 l'altro non so niente però di noi dobbiamo arrivare ma io lo Pasquara Manzia non te lo ho detto mi tira la volata ma mi dirò qualche altra cosa dobbiamo arrivarci noi se diciamo non è il mio nome in ballo non è proprio questo il nome in ballo ma dobbiamo portare avanti un'idea possibile e ce la possiamo giocare e ti faccio un'altra domanda cattiva come fate a convincere l'elettorato cattolico conservatore col pari non è che andate un popolo d'accordo voglio dire con le gerarchie per esempio ecclesiastiche di Piazza Orsini non è che corra tanto ce lo siamo detti prima non è che esiste il voto il reggimentato nelle grandi ideologie secondo me esiste i beneventani che vogliono vedere diversa loro città io penso che esistono i beneventani che vogliono vedere pulita la città che vogliono vedere una città vivibile che vogliono vedere un campo di calcetto funzionante che vogliono vedere la possibilità che i ragazzi abbiano di palestre dentro le scuole cose normali che qua sembrano cose straordinarie quindi non penso che dobbiamo fare una lotta sull'ideologia dell'appartenenza io penso che dobbiamo fare qualcosa che riguarda un po' di più l'economia e la vita allora faccio una sintesi è vero che esiste una certa differenza e ancora esiste voglio dire tra mondo laico venato di massoneria per certi aspetti e naturalmente un mondo che si rifà alla tradizione cattolica anche se prende le distanze da un certo conservatorismo cattolico che voi rappresentate o cercate di portare avanti questo però in effetti pone un problema che è quello di relazionarsi con l'elettorato che è confuso in questo ultimo periodo magari tutti questi discorsi sulla massoneria sui massimi sistemi trova la gente io ho fatto dei vox per esempio stamattina ci sono tante altre cose ultimamente alle quali dare maggiore priorità che non queste però intanto la polemica politica è tutta incentrata su questi argomenti e inevitabilmente Mastella ha il merito tra virgolette di trascinare su questo terreno tutti quanti e trascina anche la città in basso il problema è che Mende trascina il dibattito politico perché se fosse un opinionista Mastella farebbe un ottimo lavoro ma purtroppo fa il sindaco e lo fa anche molto male e quindi il problema è che noi abbiamo una città che è vistosamente in abbandono non abbiamo aperto un teatro in più non abbiamo aperto un campo sportivo in più il verde è più degradato di cinque anni fa la spina verde reclama proprio giustizia e abbiamo immense strutture per i giovani che non sono mai aperte quindi davvero il nostro problema è dove trascina la città non dove trascina il dibattito poi è evidente che in questo discorso la proposta fresca di Civico 22 deve farsi strada non sui nomi soltanto ma sull'affidabilità di un gruppo vasto di persone che non soltanto ha delle idee ma che le sa anche miscelare con una buona credibilità un'idea che si possa davvero realizzare quindi dire alle persone che non soltanto esiste un gruppo vasto di persone che hanno delle idee su una città verde intelligente e sociale ma che anche sono persone credibili affidabili che non vengono da altre esperienze ma che vogliono davvero mettere la faccia in questa prima operazione in un momento in cui siamo alla frutta per l'amministrazione Mastelliana pensiamo che questa sia una novità e lo dico alla regia di evitare di mettere l'altro inserto perché andiamo avanti con l'intervista ad Angelo Moretti sento dire adesso siamo a maggio tu hai detto mancano ancora cinque mesi qualcuno insomma sostiene che qualche diplomazia sia già in corso per cercare di ricucire un po' lo strappo al netto delle differenze che potrebbero che abbiamo elencato prima tu insomma sei dell'avviso che questa 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 frattura che si è verificata che si è aperta nel corso di questi mesi di piena campagna elettorale tra giugno luglio e anche agosto in fin dei conti possa essere rimarginata cioè che ci si possa di nuovo mettere attorno a un tavolo e ragionare in termini di unità senza disperdere le forze noi siamo per un metodo quindi il concetto è se torna questo metodo il metodo che ci hanno proposto ad oggi è quello che noi abbiamo rigettato fin dall'inizio del nostro lavoro quindi ci si può mettere attorno a un tavolo se torna un metodo democratico che non è quello di contiamo le sigle e vediamo quante sigle andate a favore di un nome o di un altro nome ma verifichiamo in che modo la partecipazione popolare o la ricerca dell'unanimità di chi sta attorno a un tavolo l'ho detto prima noi siamo in un tavolo in cui c'è su 15 sigle ci sono 4 che vengono dal mondo civico e 11 vengono dal mondo dei partiti è evidente che non possiamo dire siamo tutti alla pari noi abbiamo una condizione di diversità e nella nostra costituzione si parla di uguaglianza sostanziale quindi se noi andiamo in un tavolo e c'è uguaglianza formale devo dirti che voi siete molto più strutturati di qualche partito in circolazione a me da questo punto di vista così mi è sembrato di aver capito alcuni partiti sono veramente liquidissimi quasi impalpabili non perché non continuano ma perché sono strutturati in modo tale da essere molto molto liquidi voi siete sì improntati alla nouvelle vague noi siamo abituati all'organizzazione noi vediamo dell'organizzazione molti di noi si vede che c'è un'origine anche di partito in molti di voi voglio dire come organizzazione c'è un bellissimo articolo che sta girando in questi giorni io per fortuna ho avuto la fortuna anche di commentarlo di Giuliano Amato di come il terzo settore e la politica oggi siano dei mondi che si lambiscono quindi per capire che il nostro modello è organizzativo efficiente non si deve guardare al partito ma il terzo settore cioè Giuliano Amato ha sdoganato un tema che tutti stiamo portando avanti prima era la scuola della politica ad essere la gavetta di chi faceva politica oggi sono le strade dell'impegno sociale oggi chi ha un percorso di impegno sociale poi lambisce la politica ho detto decidi di andare in politica questa dinamica che è ben spiegata in ultimo numero di vita che è il giornale del non profit italiano con cui abbiamo fortuna di collaborare ci dice che in realtà il cambiamento è questo non è pensare se questi sono ben organizzati sono un partito se questi sono ben organizzati forse hanno fatto tanto terzo settore efficiente e adesso come normale che sia questo impegno sociale può diventare anche impegno politico quello che viene raccontato oggi in questi giorni è esattamente questa trasformazione nella società liquida i corpi organizzati non erano più i partiti ma erano quello che viene chiamato terzo settore tutto però sta nel darsi un'organizzazione qualsivoglia esatto perché se no andremo incontro alla diaspora anche delle idee è l'organizzazione che significa questo quando tu dici noi siamo stati più organizzati di altri partiti che sembrano liquidi è perché abbiamo portato dentro l'esperienza politica quello che è il nostro know-how nella materia organizzativa senti siamo proprio in chiusura puoi rivolgere un invito a Pasquale Basile con il quale hai condiviso moltissimo cosa vorresti dire a Pasquale Basile? in bocca al lupo la tua nuova esperienza sono felice che diciamo se tu sei felice sono felice perché voi avete detto i rapporti amicali restano tali e quello il resto guardate il metodo di 52 è un valore noi siamo in città dividere la città è da pazzi chi ha pensato chi pensa che la città debba dividersi in gruppi o in fazioni diciamo contrapposte uno contro l'altro uccide la città da un certo punto di vista il mondo della sinistra volendo mettere in questa accezione anche i cattolici progressisti una volta si dice cattocomunisti insomma ma cose antiche ormai morte e sepolute insomma ha sempre avuto in sé il tarlo dell'autoreferenzialità della litigiosità della non capacità di poter marciare tutti uniti verso un obiettivo è un po' insomma la storia degli ultimi 25-30 anni voglio dire la speranza è di fare cose diverse noi perseguiamo di fare cose diverse evitare diciamo le fratture perché dobbiamo aggregare non dividere sarebbe stato insomma motivo anche di allungare il tempo delle nostre interviste ma abbiamo a modo occasione questi cinque mesi che ci separano dalle elezioni di incontrare ancora una volta Angelo Moretti e anche altri che vorranno sedersi su quella poltrona noi lo diciamo sempre insomma i nostri spazi sono aperti a tutti a chiunque voglia voglia venire a rispondere i comizi non ci interessano grazie ad Angelo Moretti di essere stato qui leader possiamo dire leader di Civico 22 abbiamo cercato di comprendere e capire un po' le ragioni di questi ultimi mesi convulsi che insomma hanno visto Civico 22 a surgere agli onori della cronaca politica e non poteva essere altrimenti grazie ancora ad Angelo Moretti doppio taglio si concede a voi gentili telespettatori e l'appuntamento come sempre e alle prossime occasioni grazie a tutti grazie a tutti